Dovrebbe funzionare in questo modo Ok Oh ma Che figata è questa Steph? Ok perfetto Ho creato quattro bastoncini E devo continuare a mangiare Ma restai bene? Sì Steph Tutto bene Se soltanto ho schiantato l'aereo per terra in un'isola deserta Andrà tutto bene A me fa male un po' palla a gambo Un po' il piede Sto morendo secondo te? Lo vedo Steph L'aereo è anche spaccato a metà Quindi non mi sembra che sia andata tanto bene qui eh Due riparini e lo riutilizziamo l'aereo Non credo Tranquillo Tranquilla Allora vediamo un attimino cosa c'è nell'aereo Cos'è sta roba? Ho spaccato tutto Sembra una bustola Steph No è un orologio Fere Un orologio Però ci serve l'orologio Ok ho trovato una bottiglia d'acqua e delle torte Oh 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 non rubare tutto Oh Steph Fere Qui si morirà di sete e di fame A me non me ne frega niente di te Ognuno pensa per sé Ciao Aspetta Guarda Steph Oh cavolo Che c'è? Cioè volevo prendere l'ascia ma Io mi prendo l'ascia lo stesso Facciamo finta di niente Vabbè è un po' brutta quella testa buttata lì No no è tutto a posto Che non c'è facciamo nulla Quindi sono riuscito a prendere l'ascia dell'aereo Ok Che teoricamente ci farà comodo Però iniziamo a uscire da qui E vediamo un pochettino Ok Allora Fere Ci sono tipo cosa ne so Credo siano Cosa sono queste cose? Dammi una mano Fere dammi una mano Ce la puoi fare Sono risorse Steph No Sono le valigie Ah le valigie che si trovano su the forest Esatto Esatto Ok ho trovato del clot Dei cubetti di ghiaccio E di nuovo delle torte Ok E dell'acqua ovviamente Che comunque è utile Io sto trovando un sacco di cubetti di ghiaccio Ok Che non so bene a che cosa servono E anche qua c'è un'altra Però Ok Ok Uh bello Bello Steph Guarda ho trovato un botto di roba Tipo Ho trovato una bussola Due mele Guarda Guarda Guardami Guardami Ti stai vestendo? Sì Guardami Ma sei bruttissima Sono bellissima adesso Sono pronta a sopravvivere Ti sei guardata da sola? Sì Sono bellissima Sì orribile Tutti gli stivali Scusa dammeli Così completo il mio Io ho una pallina da tennis Come quella di The Forest Capita? Tieni Giochiamo Grazie È il nostro unico gioco Sì Allora Continuiamo a guardarci intorno Per vedere se c'è qualcos'altro Credo che stia già diventando tipo note Ma di già Ma Steph Eh dimmi Ci sono gli indigeni? Non lo so fare Come non lo sai? No non lo so Dimmi di noti prego La prefatta assistente Io non so Ok Se ci ha messo gli indigeni Steph Urla Lo uccido No lo uccido Uh Ok Steph ha trovato le ore belle Eh Hai rubato sempre tutto E questa volta prendo io Ma certo Steph Uh li vedo una bandiera Secondo te è utile quella bandiera rossa? Allora aspetta Vieni qua Ok Noi ci rifugiamo qui dentro Aspetta no Qui c'è una cesta Io mi sgobbo tutto Perfetto Un sacco di melo E un sacco di cibo Quindi direi che non sta andando male Vieni qui Ok Questa è la nostra piccola cavernina No Steph Sì Dai dobbiamo andare a esplorare Sì Non puoi esplorare di notte Facciamo così Questo ci difenderà Sicuramente Steph Abbiamo Guarda Ho anche delle torce Così teniamo lontani gli indigeni Che gli indigeni non piacciono E io ci siete fame Tu no No Cioè io un pochino Cioè aspetto Perché non voglio sprecare le mie risorse Però Io sto bene Io sto bene Ok Volevo piazzare anche una torcia Un po' più lontano Ma non ci riesco Allora Quindi volevo fare un recap Io ho trovato La giacchetta E gli stivali Tu hai i gambali E l'elmetto Bellissima In ambito di Appunto di pezzi Però la cosa più importante Che ho trovato È il came fair Ok Uh Bello 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 No io di utilissimo Comunque la bussola Che secondo me ci risulterà utile Delle mele Del clot E dei cubetti di ghiaccio Ok E dell'acqua Per i cubetti di ghiaccio Che cavolo serviranno Non lo so Forse li dobbiamo sciogliere Per farci altra acqua Non ho idea Può essere Sono solo che fair Non so se hai notato Ma è buio pesto Che poi Sì ho notato Steph Ho due tipi differenti di acqua L'acqua purificata È l'acqua normale Secondo te C'è qualcosa di diverso Sì L'acqua purificata È quella che puoi bere L'acqua normale La devi distillare Nelle came fair Prima di poterla bere Ci stiamo congelando Ho notato Ed è un problema Perché quando abbiamo freddo Ci viene più in fretta La fame Ovviamente Mentre quando è caldo Ti viene sette Quindi Dobbiamo trovare una soluzione Ok Potrei accendere il came fair qua Sì 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 Vieni 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 Ok Facciamo così Bruciamo tutto Steph No 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 Guarda Ah sì infatti hai visto A me è scomparso il gelo Fede Non mi scompariva il gelo Mi sono avvicinato Ho preso fuoco Steph Accidenti a te Me lo potevi dire Ok Vabbè Mangio una mela Ti devo davvero spiegare Che se vai sul fuoco Bruci Mi mangio una mela Non pensavo di Che sarei bruciata Steph Dai su Ma si può interagire Col came fair No No Quindi per fare l'acqua distillata Ci dovremmo arrangiare In qualche altro modo Eh sì Ok sicuramente Manca qualcosa di mezzo Per poterlo fare Ho sentito un verso? No Non hai sentito nulla Steph Era un'impressione Passa Porca miseria Voglio affacciarmi Steph No Affacciati Eh voglio vedere Però non sei più protetta Beh se senti versi Steph Devi anche capire Che ti sta succedendo attorno Fallo tu per me Allora Allora Oh io non vedo movimento Io voglio togliere Un attimino questo Ok Oh non posso toglierlo Poi cavolo Lasciacele pure tu Quindi siamo spacciati Steph Perché l'unica L'unico attrezzo Che serve per combattere C'era il più scarso di noi Quindi Sai com'è Oh io non vedo nulla Sì Non lo so Sì Diciamo che Che qualcosa è stato fatto Allora Cosa Aspetta che prendo un po' di legna Devo farmi perdonare Per combattere Steph Non per la legna Beh anche per la legna Se è pur sempre una cetta Altrimenti avrei ricevuto una spada Non una cetta Sei zitto Allora Ti devo far vedere Delle cose interessanti Io scappo Ciao Steph Ciao Fede Dove vai? Allora Nella spiaggia È pieno di valigie Quindi bisogna ricordarsi di andare Ok? Ci vuole proprio morire Fede Cioè No voglio sopravvivere È chiaro come il sole È chiaro come il sole Allora Guarda qua È freddo che c'è Aiuto L'hai rotto L'hai rotto? L'hai rotto? L'hai rotto? L'hai rotto? L'hai rotto? L'hai rotto? Per sempre Come per sempre? Per quello cercavo di distratti Vai via Vai via Ma se stiamo vicini No no Ben morire Steph Ti meriti di andare con gli indigeni Ciao Steph Io vedo qua dentro Secondo me qua c'è meno freddo No? C'è freddo uguale Sto morendo di freddo Allora fammi vedere un pochettino Fede Sono in ipotermia io Anche io Sto prendendo danno per ipotermia Anche io E se chiudiamo? Sto iniziando a vedere Steph Tutto annebbiato eh Così tanto? Sì 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 No Fede Non ci posso credere Ho l'inventario nero Steph Per colpa tua Allora Io mangio un pochettino Noi ma siamo al chiuso Cavolo Dovrebbe bastare Dovrebbe bastare È notte no Sto prendendo Le torce non ci riscaldano Sto prendendo tutto in modo strano Stiamo morendo Steph Alla prima notte Per colpa tua Perché hai rotto il campfire Aspetta È un po' pericoloso No Vieni vieni Scaldati Scaldati Funziona Sì sì sta funzionando Il problema è che so Ecco qua il problema No a me non sta neanche funzionando Steph A me sì a me sì Basta basta Mi sto facendo del male Però è quello il problema Dovrebbe funzionare in questo modo Ok Oh ma Che figata è questa Steph Ok perfetto Ho creato quattro bastoncini E devo continuare a mangiare Mangia 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 Sì ma abbiamo finito tutto il cibo Steph Allora Se io adesso metto i bastoncini Metto un altro bastoncino Poi faccio così E creiamo un bel piccone E che ce ne facciamo del piccone Vieni Fere Che me ne faccio Non lo so Che me ne faccio Piccona Stai morendo? Non ti parlo più Per fortuna abbiamo smesso di prendere danni entrambi Ma siamo messi davvero malissimi Sarà giorno credo Allora Ti faccio un piccone anche per me Poi faccio un accetta per te E direi che partiamo Ok? No Non voglio più stare con te Steph Fere ce la faccio Per il caso di farci morire fai schifo Tieni Ti sei messo a fare picconi Quando stavamo morendo di freddo Cosa dovevo fare? Spiegami Allora comunque penso Hai distrutto anche la crafting table Bravo Che non sia difficile Me la sto portando via Che non sia difficile Fare il Ovviamente non lo è fare Il campfire Sarà legna E si è presotto Cioè più o meno come su The Forest Secondo te perché ho fatto i picconi allora Io me ne vado Allora Vieni alla spiaggia Andiamo a vedere cosa c'è lì nella spiaggia A fare la cosa più intelligente Che noi possiamo fare Allora Andiamo di qui Una vita senza di te Ecco cosa c'è alla spiaggia Steph Finalmente Sto guardando malissimo Allora Questo è vuoto L'ho già raccolta Ok qua c'è anche della roccia Che è ottimo È vero E lì comunque c'è una bandiera Chissà che serve È una barchetta Steph Stai a vedere bene una barchetta Ah E beh è vero Su The Forest c'è la barcavela Oh è proprio bella sta mappa Comunque Evidentemente ha qualcosa Però c'era sempre Allora Acqua purificata Ok acqua acqua Ok allora Ho trovato un campfire E anche altro cibo E poi un empty canteen Non so cosa sia Ok Clot Pumping Ok questa me la mangio Che c'è una fame Io ho bisogno di bere In una maniera assurda Mamma mia Che fame fammi bere anche a me Ok carote Glù 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 Perfetto E adesso sto benissimo Ora sto benissimo Ok 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 tutto ha fatto no Cioè Sei zitto Tutto a posto Allora Ci saranno anche gli squali Perché mi viene fame ogni quarto secondo di vita Non lo so anche a me Devo smetterla di correre Facciamo così Io vado Cosa mi hai chiesto? Se ci saranno gli squali Se ci saranno gli squali Non credo Sto andando alla barca Perché solitamente Nelle casse che si trovano Nelle barche di The Forest Si trovano cose particolari Lo so Quindi secondo me Vale la pena dare un'occhiata Ma riesci a salire? Stai zitto Fattigli a fare i tuoi No ma ci riesci? Ci riesci? Certo io riesco a fare tutto Allora è pieno di ceste Vediamo Ok Ok Delle string E poi ho trovato Broken axe Anche se poi No è che picchia male Ah perché si chiama axe Boh perché fa schifo Poi ho trovato un foglio di carta Un foglio di carta Un sacco di cloth Che credo serva a fare i vestiti Assolutamente sì Un letto Un letto Può essere molto utile Pane pane Medicina Ok Hai trovato anche dei succhi Succo E altro pane Che buoni i succhi Non male Non male Me ne offri uno No Ok Stai prevedibile come risposta Sicuramente il succo dà sia fame che sete Voi lo provano In una botta sola In una botta sola Quindi sarebbe un po' sprecato Il problema è che ho fame Te ne mi ero basso tutte le crafting table Capito? Ogni volta faccio così Però io volevo andare a testare Se ho ragione Ah e quanto cloth hai fare? Eh aspetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok me li dai? Voglio vedere se posso craftare dei vestiti Ok per non avere più freddo oltretutto Dove sei? Qua Te le do tutti Ok Tieni Tieni Perfetto Tieni Tieni Ah grazie 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 Ma ne avevi un sacco Te l'ho detto che ne avevo un sacco Ma proprio un sacco Allora La medicina direi di conservarla Il pane me lo mangio Ci sta iniziando a venire caldo comunque Non so se hai notato Quindi È che noia È caldo È freddo È sonno È fame Si chiama sopravvivenza Un po' difficile come sopravvivenza No Non si fa così No evidentemente ci vuole anche qualche altra cosa Non penso che basti solo Già Già E quello che però volevo scoprire Ero curioso E quindi ho fatto il tentativo Non è così facile fare i vestiti Allora vabbè Il caldo non mi sembra grave Infatti non abbiamo neanche un debuff al momento Quindi dovrebbe essere comunque tutto ok No certo Abbiamo il game fire A me sembra che il nostro problema principale sia Che non abbiamo cibo in questo momento Eh sì Vero Ma tu stai frugando La smetti di prendere un sacco di lutta al posto mio No abbiamo cibo Stef Ho trovato una canna da pesca È ottima per il cibo Io vado a pescare This is very good Fere Allora Devo riuscire a fare una fornace Quindi Fere tu pesca Io prendo la pietra per fare la fornace Ok Sì E craftiamo la fornace Però ci serve Vabbè dobbiamo fare della carbonella E mettiamo a cuocere il pesce e ce lo mangiamo Ok Pesca bene però eh Eh non c'è nulla No? No no Sono tutti scappati Stef Sì? Come ti hanno visto Ma che cosa centro io Al massimo sono scappati da te Ok ne arriva uno Allora Avviciniamoci un pochettino a Fere Ok Oh no Il caldo mi sta aumentando Perché è mezzogiorno? Sì è mezzogiorno Quindi c'è più caldo È ovvio Ho del salmone crudo Stef Ci trattiamo anche bene Continua a pescare Continua a pescare Sì 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 Ma il salmone crudo si può mangiare Nella vita reale Non so su Minecraft Vabbè no aspetta Non è che sia proprio crudo crudo È comunque trattato in un modo Quindi non penso che trattiamo Allora uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E creiamo così La fornace Ok Perfetto Dopodiché con la fornace Noi possiamo fare così Che spettacolo Guarda Tu vedi dentro la fornace Oh bellissima E adesso vedrai la cosa che si cuoce È uno spettacolo Carino Carino sì Ah devo mettere proprio gli oggetti dentro Ok Allora quindi devo fare così E così Però troppo poco Mi serve un attimo più legna Vado Ho qualcosa da mangiare Due pagnotte È la mia unica fonte di cibo Che casino sopravvivere in questo posto eh Però è figo Mi piace un sacco No è bello È bello Legna 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 Perfetto Quanti pesciolini hai? Due Quattro Il pesce palla si può mangiare? Non credo O è venenoso Mi sa proprio di no Allora quattro Ok Allora Io invece Teoricamente Ho fatto tutto quello che serve È per poter creare Un po' di carbonella Cioè Guarda Vedi Aspetta che mi fai distrarre E non pesco Cioè ti faccio vedere meglio Ok Guarda Ah Fighissimo Però non so Come mi dà le cose? Ah vabbè Mi sa che la droppa per terra Vediamo Mi allontano un pochettino Che sono curioso Sì Carino Ovviamente rimetti la sabbia lì Non lasciare i buchi Grazie Certo Vediamo tutti i buchi Va bene Non c'è bisogno Di interrompere Un po' il momento Ok Quindi ci stiamo facendo La carbonella Mi sa che metto a cuocere il pesce Che dici? Tanto adesso sono piena Ne ho pescato un sacco altri Aspetta Aspetta Devo pescare l'ultimo E poi arrivo Sai com'è Sempre l'ultimo Aspetta Le spaventi Quindi vattene Guarda Sta arrivando Grazie L'hai preso tu Sì al volo Allora ti do quelli che ho pescato Vediamo un pochettino Andiamo lì sopra Ok E vediamo un po' Oh che sa Oh che sa Uh guarda quanta carbonella abbiamo fatto Allora ho Questo Non so se si può mangiare Questo Non mi piacciono mai i pesci Quindi io mangio sempre la carne Questi Ok E basta Ok hai pescato un sacco Sì Allora io direi Carbonella finita Togliamo Come faccio a togliere Le cose Queste palline da tennis Dicono me ne faccio nulla E mi stanno occupando spazio Guardate Vi voglio far vedere Cioè Sto cuocendo il pesciolino Bellissimo 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 Ok li mettiamo tutti e cinque Cooked fish Tieni fare Te lo sei meritata Ok Mangia 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 Ma non ho fame io in questo momento Meglio Sono a posto Però per dopo sì Per dopo Io vorrei sapere Come si fanno i vestiti Fare Non importa Non importa Anche perché ti dico Ci siamo bruciati il cibo Al momento non abbiamo set Dobbiamo scoprire come si fa L'acqua di silate E eccetera eccetera Quindi ci sono altre cose a cui pensare Io direi che ci fermiamo così Beh Se i consolini vogliono Noi continuiamo Altrimenti Li lasciamo qua i nostri personaggi Nell'isola A morire di fame Di set Di caldo Di freddo Di acqua Ecco qua c'è un sacco di roba Per cui si può morire Quindi è un momento Ed una vita abbastanza difficile Io non so come si recuperano le cose Quando sono dentro la fornace Che è un po' un problema Devo essere sincero Però Non importa Qua sotto Compariranno altri video Fateci sapere appunto Se avete vedere altri video In questo stile di sopravvivenza Super mega estrema Stile per grids Ci fermiamo così Sì